ciao ragazzi benvenuti in un nuovo video del mio canale oggi ci troviamo al murales dedicato al libero liberati che si trova sul muro delle acciaiere di terni indiale brin libero liberati nacque a terni il 20 settembre 1926 e morì in un tragico incidente a terni il 5 marzo 1962 è stato un pilota motociclistico italiano che ha vinto il moto mondiale classe 500 nel 1957 e chiamato il cavaliere d'acciaio otternano volante questa bellissima opera di street art è stata realizzata nel 2020 dall'associazione cantiere misto dio terzo dagli artisti spazio e niar sul disegno dell'artista ternano daniel pisano stato realizzato con la tecnica delle bombolette a mano libera come potrete ben vedere liberati è rappresentato da un lato in sella la sua moto gilera mentre sale in cielo con le ali rosso verde nell'altro lato invece abbiamo il volto di grande campione ternano anche se qualcuno ha sollevato la polemica affermando che il volto di liberati avesse subito l'intervento di botulino a me piace molto perché la cosa più importante non è l'immagine in sé ma il ricordo ed è il tributo che si è voluto dedicare al più grande sportivo della storia di terni se questo video vi è piaciuto mettete un like ed iscrivetevi